Trasfigurazione del Signore La festa della trasfigurazione veniva celebrata originalmente in Oriente, fu poi ostesa in Occidente da Papa Callisto III nel 1457. Narrano i Vangeli che durante la trasfigurazione Dio Padre presentò Gesù come il figlio amatissimo nel quale trovavano compimento i profeti. La data di questo avvenimento si colloga nel ventinovesimo anno di Gesù, dedicato alla formazione degli apostoli. Giunti sul monte Tabor, Gesù fece riposare i discepoli, poi, chiamati Pietro, Giacomo e Giovanni, li condusse a pregare in disparte. Ma i tre si addormentarono e al risveglio videro Gesù trasfigurato che conversa con Elia e Mosè. Il tema del colloquio era la conferma della passione e morte del Messia e allo stesso tempo l'annuncio della risurrezione.